Il capogruppo di Movimento Libero Angelo Mazza interviene sulla questione furti e chiede che l'amministrazione di Ponte Cagnano-Faiano preveda uno specifico capitolo di bilancio dedicato alla sicurezza, una problematica tornata ad attualità dopo i numerosi furti registrati in più punti del territorio. Il fenomeno furti sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano non è un fenomeno che nasce oggi, è ritornato in modo imponente sul territorio negli ultimi 20 giorni con dei furti importanti, con appartamenti che vengono svaliggiati, con attività che la mattina si ritrovano le serrande scassinate. La cosa che più preoccupa a me come rappresentante in Consiglio di Movimento Libero è il silenzio assordante del governo cittadino. Ritengo che in passato chi oggi governa la città nel ruolo di opposizione ha strumentalizzato molto. Oggi la nostra proposta parte sul incremento del capitolo di spesa sulla sicurezza. Le nostre proposte sul tema sicurezza sono già ben chiare. Sono il potenziamento sulla videosorveglianza, ma al potenziamento la nostra volontà, la nostra voglia è quella di incrementare anche il corpo dei vigili urbani. Perché c'è bisogno che ci deve essere un annesso tra il potenziamento della videosorveglianza con un ufficio preposto dove ci sia un monitoraggio H24. in modo da controllare il transito che avviene sul nostro territorio. Quindi prevediamo l'incremento di quelli che già ci sono, alcuni punti che riprendono sul nostro territorio, ma dobbiamo adeguarci a quello che è il fenomeno che oggi c'è sul territorio. Punto secondo è quello di rimettere insieme attraverso dei comitati di quartieri, perché dobbiamo far rendere partecipanti anche i cittadini di essere meno, non uso la parola omertà, ma di segnalare quotidianamente alcune anomalie che si verifichino sul territorio. La terza, diciamo che è molto più importante, è cercare di potenziare il capitolo di spesa, perché da lì parte tutto il processo, soprattutto poi arrivare con una tenenza sul territorio.